Gentili telespettatori, buona giornata. Così ieri alle tre del pomeriggio succede a Palazzo Chigi che la Lega diffonde una versione della nota congiunta della riunione nel centrodestra della maggioranza. La Lega diffonde una versione della nota congiunta sottoscritta dai quattro leader che differisce in un passaggio fondamentale sulla linea dell'Italia riguardo al conflitto internazionale. Nel testo diffuso dal Carroccio è scritto con appoggio ma contrario a ogni ipotesi di interventi militari fuori dai confini ucraini, che non è quello che c'era scritto nella nota congiunta. Quindi la Lega prima si è inventato e ha cambiato un pezzo della nota congiunta e poi l'ha cancellato e modificato. Salvini dice che solo una scelta stilistica e non di contenuto si tratta di un semplice errore. Abbiamo ribadito la linea del governo che la Lega ha sempre sostenuto. Quindi Salvini ha fatto il giochino di far finta di fare l'errore per far capire agli altri che loro la pensano diversamente. Insomma mi sembra una roba abbastanza infantile e ridicola. Comunque arrivederci a tutti e grazie.